Domenica, primo febbraio 2015, l'agenzia Grandi Eventi di Stefano Scardia e il direttore artistico Maurizio Barbieri vi invitano al pranzo spettacolo della tradizionale festa della Candelora, presso il ristorante e pizzeria Las Brisonas, gli aricuari a 333, barcaturi, antipasti di prosciutto e melone, ciliegine di mozzarella, zeppoline e bruschette, fravagli fritti e caprese, paccheri e frutti di mare, orecchiette e funghi porcini e secondi a scelta di frittura di pesce o arrosto di metà allo forno con patate, dolce della casa e menù bambini con pennette al pomodoro e cotonette e patatine fredde. Si esibiranno i seguenti artisti, piano barri senza aereo, Raffaele, Ivan Foro, Antoine, Antonio Buonoro, Antonio Ottaviano, Emiliana Cantoni, Carmen Forte, Gianluca Parigi, Fabrizio Ferri, Gino Ferrati, Ennio, Nancy, Franco Calone, Leo Ferrucci, Nello Amato, Luca Formisario, Giovanna Desia, Francesco Machizzano, Jenny Cortesia, Tommaso Doppia Vino, i comici, Albertuccio e Mariolino, Isho Shamon, Lino Rabona, la danza orientale di Yana Shou e tanti altri artisti a sorpresa. Divertimento assicurato, ad un prezzo eccezionale, vi aspettiamo. Primo febbraio 2015, festa della Candelora, un grande evento, non puoi mancare. Primo febbraio 2015,